Buongiorno e benvenuti a Business Planet. Pensionamenti, malattie, reimpieghi, ogni anno in Europa vengono trasferite circa 450.000 imprese. Un'operazione molto delicata e difficile per la mancanza di informazioni e di strutture di sostegno agli imprenditori. Qui a Barcellona esiste una piattaforma specializzata che permette a decine di imprese di riuscire in questa operazione con successo. Xavier e Hordy lavorano insieme da un anno e mezzo. Hordy ha rilevato con suo fratello Carlo un'impresa di rimozione di graffiti quando Xavier, 66 anni, ha deciso di andare in pensione. Il trasferimento di proprietà è andato a buon fine. Xavier non solo ha venduto, ma è anche impegnato in un lavoro di tutoraggio con i nuovi proprietari. Ho l'obbligo di lavorare un anno come consulente della società. La mia esperienza potrebbe essere utile in caso di difficoltà. E inoltre abbiamo concordato che per tre anni prenderò una percentuale sul fatturato. È importante che ci stia accanto perché conosce bene il mercato e i clienti. Sa quali sono gli aspetti chiave della società, anche i più minuziosi. Oggi l'impresa, che si occupa anche di installazione di pellicole di protezione solari sulle vetrine dei negozi, dà lavoro a una decina di persone ed è in fase di ampliamento. Si sta affacciando su nuovi mercati, a partire da quello francese. Grazie a loro questa società può andare avanti. Dentro ci sono 45 anni della mia vita, ci sono le mie speranze. Con loro può avere un futuro. Abbiamo investito sul mercato francese, abbiamo messo su un nuovo team. Speriamo di incrementare il fatturato, portandolo dal 20 al 30% rispetto allo scorso anno. L'inefficienza nel trasferimento di imprese costa ogni anno in Europa 600.000 posti di lavoro. È su una piattaforma web che Xavier ha trovato un acquirente per la sua attività. Reimpresa è la prima struttura del genere in Spagna. Un vero e proprio punto di incontro tra chi vuole acquistare e chi vendere una piccola o media impresa. È fino a sei, otto volte più facile rilevare un'impresa che esiste già, piuttosto che aprirne una da zero. Reimpresa fornisce anche altri servizi, tra i quali l'assistenza nella preparazione del business plan, nata da meno di due anni, ha già raggiunto obiettivi importanti. Il bilancio record di Reimpresa è di 80 operazioni effettuate. 250 posti di lavoro, conservati, e 4,4 milioni di euro investiti. La chiave del successo è saper gestire i rischi, essere consapevoli dei momenti di sofferenza che vivono tutte le attività imprenditoriali e poter così raggiungere una libertà individuale.